Sono 200 i casi gravi presi in carico dal programma Disturbi del comportamento alimentare dell'azienda sanitaria di Piacenza. Si tratta di persone con età compresa tra i 14 e i 30 anni, 90, hanno meno di 18 anni. L'associazione Il Vaso di Pandora ha promosso un convegno dedicato al tema. La crescita è continua ancora oggi, è stata per l'anoressia nervosa per molti anni e ora l'anoressia nervosa dal punto di vista dell'incidenza o delle nuove incidenze si è stabilizzata. Invece la bulimia nervosa è ancora molto in aumento. Interessante invece è il fenomeno per le anoressiche, per i disturbi anoressici, della diversità di insorgenza. Noi eravamo abituati ad avere un picco elevato in adolescenza e quindi continuiamo a dire che è giustamente un disturbo dell'adolescenza, 15, 16, 17, c'è ancora il picco di insorgenza a quell'età. Ma cominciamo a vedere moltissime bambine che strutturano anticipatamente il disturbo giù giù a 12 anni, anche a 11. Nell'incontro ospitato dall'auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano sono stati presentati i dati di un'indagine svolta nelle scuole della città su un campione di 200 bambini delle elementari e 200 ragazzi di medie e superiori. Tra i maschi, a preoccupare, sono le forme nascoste del disturbo. Quali sono i campanelli d'allarme ai quali prestare attenzione? È difficile perché sembra tutto normale, questi ragazzi mangiano in maniera normale però sono estremamente attenti alla forma fisica, presentano proprio un disinteresse totale poi per tutte le altre cose della giornata della loro vita, a cominciare dal rapporto con l'altro sesso. Diventa molto meno importante, quindi c'è proprio un disinvestimento su tutti gli altri aspetti della loro esistenza. Abbiamo utilizzato anche dei test, tipo il test dell'autostima, in particolare l'autostima interpersonale e il successo scolastico, che sono dimensioni comunque collegate al disturbo in un qualche modo e abbiamo visto dati interessanti, ad esempio, sul fatto che molti ragazzi nei licei hanno questo problema, questo tema legato all'autostima scolastica e all'inadeguatezza cioè l'inadeguatezza nel senso di sentirsi inadeguati ed affrontare un po' tutte le situazioni sociali, interpersonali. L'associazione Il Vaso di Pandora è nata sette anni fa. Si vorrebbe cercare di intercettare i primi disturbi ancora prima che siano manifesti quindi anche attraverso questo lavoro con le scuole sono stati fatti dei questionarii e si vorrebbe appunto riuscire ad aiutare questi ragazzi ad uscire dalle loro sofferenze e se possibile non entrarci neanche. Dall'indagine nelle scuole è emerso un altro dato significativo. Con indice patologico il 20% degli adolescenti e il 14% dei bambini ha manifestato nelle risposte la paura di crescere. Grazie a tutti.